Un'altra cultura, un'altra religione. Cosa pensa del matrimonio, signora? Ma io sono sposata da oltre vent'anni con questo uomo, evidentemente, e penso che sia meglio cambiare se stessi piuttosto che tentare di cambiare l'altro. E così abbiamo trovato la nostra armonia. Bellissimo, bellissimo. Bene, vorrei fare solo una domanda, qui, solo da questa parte. No, io sono senza... È rimasto abbagliato. No, stavo, stavo vedendo, aspettando le altre signore che parlassero. No, ma le altre signore parleranno tra un istante. No, ma ci tolga solo una curiosità perché questa è una trasmissione di donne e quindi l'amore...